La cosa più importante certamente che ho raggiunto e che cercavo da tempo è il distacco dalle cose che non è un disprezzo delle cose, è capire che cose sono le cose e essere distaccato dalle cose essere lontano, cioè guardare come se tu fossi da un'altra parte e questo non solo mi ha aiutato nei momenti difficili, ma mi ha dato la vita insomma io comprendo tutto adesso perché vedo tutto sempre da lontano e mi è capitato pochi giorni fa grazie al poeta romagnolo Giuliano Cardellini di venire a conoscenza di uno dei più grandi poeti polacchi che io non conoscevo che è Miłosz, premio Nobel per la letteratura nell'80 e io ho recitato al Bonci di Cesena, ho interpretato proprio Miłosz in questa serata lui dedicata, fatta dall'Associazione Italo-Polacca e lui che era inconsapevole di certe cose parlava apposta proprio di quello che gli ha dato il distacco dalle cose, ricordiamoci che lui era stato esiliato per 40 anni, 50 quasi era un poeta in esilio, era una persona che ha sofferto tantissimo e il distacco dalle cose lo ha aiutato ad avere questa grande forza e ad avere proprio artisticamente raggiungere risultati che altrimenti sarebbero stati impensabili e che poi il distacco non è il distacco dalla realtà è il distacco dall'illusione, dall'illusione delle forme per entrare nel mondo della realtà vera non quella che appare quindi in realtà poi è un distacco per modo di dire però credo ciecamente a quello che dicono i grandi saggi e del mio Vangelo che ci colpisce soltanto ciò che noi permettiamo che ci colpisca, non ci può colpire altro quindi noi abbassiamo la guardia appositamente e facciamo entrare delle cose Diana ti chiedo scusa se sono andato via così senza un saluto preferisco che la felicità del nostro incontro non venga turbata dalla consuetudine di un rapporto che alla lunga si rivelerebbe misera cosa di fronte all'intensità delle nostre emozioni non bisogna aprire certe porte, neppure succhiuderle ed anche se io non ho potuto fare a meno di avvicinarti adesso devo avere la forza di allontanarti forse non avremo più occasione di incontrarci almeno lo spero perché voglio che tutto rimanga imprigionato in una bellezza capace di restituirci la perfezione del desiderio così tutto potrà rimanere come adesso eccessivo desidero ricordare il tuo volto la pace che provavo quando posavi il tuo sguardo su di me una pace che preludeva la morte dei sensi terreni ed apriva gli abissi glaciali di una condizione angelica se ci rivedremo sarà per una beffa del destino preferisco tenermi un desiderio che ci farà volare all'interno di un piacere esagerato estenuante eccessivo simile a quello che si consuma tra le braccia di una donna senza braccia che nulla può trattenere perché nulla può difendere grazie a tutti preferisco tenermi il desiderio un desiderio un desiderio che ci farà volare all'interno di un piacere esagerato estenuante eccessivo simile a quello che si consuma tra le braccia di una donna senza braccia e nulla può trattenere perché nulla può difendere grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti